Sono Chiara, ho 17 anni e sono innamorata pazza di Andrea. Cosa faresti senza di me? Me ne sarei perso. Con Andrea ci siamo visti per la prima volta dopo due anni di conoscenza a un chat. Iniziamo a correre tutti e due, ci abbracciamo, caschiamo in mezzo alla piazza, a Comezia. E' stato un momento bellissimo. Andrea e Chiara, quando stanno insieme è difficilissimo staccarli. Sembrano una coppia proprio fatta per stare insieme. A scuola vado abbastanza male e sono stato a boccevo due volte, non mi ha prato di studiare. Nel collegio credo che sarà dura, però l'importante è che ci sia l'UF anche qua. Siamo troppo sdoccinati. Quasi la diabete.